Sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica Alessandro Sacchi, l'ottantenne, che lo scorso 21 giugno uccise con un colpo di pistola la moglie Serenella Mugnai, 73enne, affetta da qualche anno d'Alzheimer. Un delitto consumato all'interno dell'appartamento nel quale viveva la coppia in via Legiotto. Quella notte, a seguito di un banale bisticcio, l'uomo impugnò l'arma, ereditata dal padre ma mai denunciata, e fece fuoco contro la moglie, poi avvisò i vicini e i soccorsi. Non ce la facevo più, avrebbe detto alla polizia dopo l'arresto. Adesso il GIP del Tribunale di Arezzo ha disposto l'incidente probatorio su richiesta del PM Marco Dioni, un accertamento auspicato anche dai difensori dell'anziano Stefano Sacchi e Piero Melani Graverini. Spetterà così al dottor Massimo Marchi stabilire se l'ottantenne è in grado di partecipare al processo, se era pienamente capace di intendere voleri al momento del fatto e se è socialmente pericoloso. L'incarico per la perizia il prossimo 16 settembre. L'accusa per l'ottantenne è quella di omicidio volontario aggravato. Attualmente si trova agli arresti domiciliari nell'RSA Fossombroni in considerazione dell'età. Era stato scarcerato un mese dopo il delitto.